Come candidato sindaco della lista civica Carlo Olbo Sindaco, che ci siamo presentati alle ultime elezioni, uscendo con un rispettabilissimo 16% per essere alla prima esperienza, sono venuto qua in comune a congratularmi con il nuovo sindaco di Marcelli, l'avvocato Roberto Scheda, che mi lega una profondissima e lunghissima amicizia di famiglia e spero ovviamente con il nuovo sindaco che ci sia un nuovo corso degli eventi, una nuova e marcata attenzione per i giovani, per il lavoro e per un decoro umano che chiede assolutamente grandi interventi. Sono molto felice di questa giornata revierna e spero veramente che la mia presenza possa essere un valido contributo comunque per la città e per i 3.200 lettori che hanno messo di luce nell'uvo bianco in questo progetto. Il risultato straordinario che conferma l'ottimo risultato alle elezioni europee, dove il governo Melone ha fatto un risultato straordinario, che conferma lo straordinario risultato fatto da Alberto Circhi e dal nostro Carlo Riva Garcellotti alle elezioni regionali, che conferma che abbiamo fatto benissimo in questi anni in provincia. Quindi la filiera comune, provincia, regione, Stato ed Europa funziona benissimo, funziona anche a Vercelli e siamo contenti per il consenso dei nostri elettori. Allora, ovviamente, primo messaggio, buon lavoro, buon lavoro del sindaco, soprattutto da parte della nostra, un grazie infinito a Gabriele Benalato, per quello che ha fatto con questi mesi, per la possibilità che ci ha dato, per il fatto di aver contribuito fortemente a quello che è stato un percorso che vi ha visto. È un gruppo molto bello, molto poesimo, molto forte e da qua rimarchiamo. È chiaro che le aspettative erano di potersela trovare ancora di più, non siamo riusciti a fare l'ultimo aspetto, abbiamo recuperato dei voti, non sono stati quali sufficienti per poterci vincere, però siamo orgoglioni di tutto quello che abbiamo fatto, del messaggio che abbiamo mandato, del fatto che ci sia ancora un modo di fare la politica e di approcciarsi alle persone che sia vero, che vi è olimpico. Questo messaggio che abbiamo portato avanti e che continueremo a fare anche nei prossimi e anche nei prossimi giorni.